ben ritrovati ancora insieme negli studi di una mela al giorno parliamo di amore e soprattutto di amore nella terza età c'è chi ama ancora un amore di vecchia data chi ama di nuovo perché magari si è rinnamorato ancora una volta anche dopo i 70 anni e perché anche dopo gli 80 anni allora per approfondire questo argomento vi vado a presentare le nostre ultime due ospiti di questa sera la dottoressa marina palumbo buonasera buon trovato ben trovati psicologa clinica e nostra ospite quasi abitudinaria potremmo dire la dottoressa sarà poliseri dirigente infermeristica benvenuta anche a lei buonasera buonasera allora io partirei proprio dalle dottoressa poliseri perché sappiamo che è capo di una struttura che accoglie proprio persone anziane quindi vive anche in prima persona quotidianamente vecchi e nuovi amori perché ci sono persone che magari sono venute strutture insieme delle coppie già consolidate ma ci sono persone che magari si sono trovate a trascorrere da sole le ultime l'ultima parte della propria vita è proprio magari frequentando una struttura come quella che lei dirige hanno incontrato l'amore di nuovo come viene vissuta questa esperienza in terza età allora parlare di amore e di sessualità in terza età naturalmente a livello culturale e a livello sociale ci rimane quasi difficile perché pensiamo che in terza età alcuni istinti alcune emozioni alcune sensazioni siano assovite o comunque siano quasi dimenticate in realtà la persona rimane con dei sentimenti importanti anzi l'amore e la sessualità sappiamo che sono due elementi importanti che fanno sentire viva una persona l'oms per esempio individua una salute sessuale la appunto individua l'importanza della sessualità in terza età e è importante secondo me almeno per quello anche che vedo all'interno della struttura è perché perché comunque rende la persona diciamo con più autostima perché perché avere dei rapporti diciamo con un uomo o al contrario un uomo verso una donna sicuramente migliora il suo stato anche sociale all'interno del gruppo e c'è un miglioramento anche dell'umore naturalmente perché perché se io capisco di piacere o comunque ho questa sensazione che gli altri hanno piacere a stare con me sicuramente porta dei benefici anche al mio stato di benessere complessivo infatti l'oms parla di un benessere sia dal punto sociale sia dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista diciamo sociale soprattutto della persona ecco e sicuramente troviamo delle grandi differenze di genere perché perché nell'uomo sicuramente viene più diciamo come dire più accettata la sessualità e anche l'apertura verso un nuovo amore mentre nella donna ci troviamo ancora in una situazione un po' di arretratezza sotto questo discorso perché la donna noi veniamo comunque noi abbiamo parlato anche delle donne in terza età le donne hanno avuto comunque nella loro storia un vissuto diciamo diverso rispetto per esempio a quello nostro perché perché hanno avuto una maggiore chiusura rispetto per esempio sia all'amore che alla sessualità e sicuramente non li ha aiutati diciamo soprattutto l'aspetto sociale per esempio anche la formazione cattolica perché comunque il sesso in sé per sé veniva visto per esempio come un peccato dunque non l'ha aiutata in questa crescita anche se oggi quello che io posso dire secondo la mia esperienza è che anche le persone in terza età sotto questo punto di vista si sono comunque evolute perché perché hanno comunque avuto degli stimoli esterni venuti sicuramente dalla televisione dai rapporti con gli altri che l'hanno comunque aperta verso questo questa prospettiva di poter trovare magari una nuova compagnia di poter diciamo vivere la propria sessualità infatti si dice per esempio gli studi ci dicono che c'è anche una maggiore diciamo proiezione verso se stessi per quello che riguarda la sessualità per esempio con l'autorotismo perché perché comunque è un modo secondo me in cui l'anziana o l'anziano riprende coscienza del proprio corpo che comunque è cambiato con la terza età e dunque c'è un modo anche di accettare e di conoscere meglio il proprio corpo naturalmente laddove ci sono dei dubbi bisogna affidarsi a dei professionisti nella donna c'è la ginecologa nell'uomo c'è l'andrologo che ci possono aiutare e coadiuare verso questa nuova esperienza che comunque è cambiata perché perché ci possono essere delle patologie ci possono essere comunque anche dei problemi naturalmente fisiologici della della persona e gli medici ci possono aiutare ad affrontare questa esperienza che sappiamo che comunque a prescinde fa bene alla persona e dunque va vanno aiutati e supportati in questo percorso e allora quanto possa far bene ad una donna ed anche ad un uomo in terza età l'amore l'affettività ma anche la sessualità allora lo chiediamo alla dottoressa palungo esperta in materia da psicologa clinica ovviamente sì e sarà ha detto delle cose giustissime interessantissime e devo dire che la sessualità per la terza età incomincia ad essere sempre di più superato nel tabù nel senso che fa molto meno scalpore rispetto a prima le donne gli uomini si sentono liberi di raccontare si relazioni diciamo anche sentimentali legate anche alla sessualità nella terza età ormai sono ovviamente accettate dalla società accettate da dal contesto anche familiare dove la persona vive naturalmente la cultura ed un ambiente di un diciamo più avanzato agisce favorevolmente in questa accettazione devo dire che molto interessante perché quando uno è giovane ha la presunzione pensa beh come si fa sesso a vent'anni a trent'anni a quarant'anni a cinquant'anni già sessanta un po di meno a settanta e ottanta finito morto invece assolutamente no una grande presunzione l'amore si trasforma anche l'atto amoroso l'atto sessuale si trasforma subentrano altre emozioni 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 come la tenerezza emozioni come il tatto come l'accarezzamento come lo sguardo come la dolcezza no perché ovviamente fino a cinquant'anni più o meno ma nella gioventù ancora di più gli ormoni fanno da padrone quindi c'è un impeto sessuale importante laddove crescendo l'impeto si abbassa subentrano però delle emozioni talmente forti che è stato riscontrato in alcune ricerche che gli orgasmi degli over 60 e in proporzione con gli under 30 cioè a livello di potenza emotiva e di benessere psicologico sono di ugual misura quindi veramente questa è un dato interessantissimo e che ci dà anche poi la contezza del fatto che la vita si sta allungando e che quindi il benessere psicologico che grazie anche a Isabella viene qui discusso sempre con una grande importanza è fondamentale per un mantenimento di una salute mentale di un livello di psicologia e di motività sempre adeguato e soprattutto aiuta anche a trattenere delle forme di la vita sessuale di decadimento cognitivo come potrebbero essere forme di depressione potrebbero essere anche l'inizio di una certa demenza la cosiddetta arteriosclerosi le persone anziane hanno l'arteriosclerosi anche no ce l'hanno anche i trentenni che non vivono una vita adeguatamente proporzionata ad un livello di benessere quindi oggi la attività sessuale per gli anziani e non è vero eh voglio spezzare un'altra lancia che gli anziani si aiutano con i farmaci è stato visto che anche nei trentenni c'è un grande uso abuso di farmaci per come dire darsi delle aiutini durante le performance sessuali mentre invece una dose di empatia o di potenza emozionale aiuta più di un farmaco in certe performance quindi talvolta l'attività sessuale degli anziani è maggiore qualitativamente migliore di quella dei giovani. Assolutamente sono notizie davvero interessanti che spero possano essere trasmessi anche altrove perché ritengo che sia fondamentale fondamentale anche per un tassello che vogliamo andare a toccare con entrambe comincio da dottoressa Qualiseri perché eh cerchiamo un po' di eh di battere in modo eh giustamente alternato il problema spesso a meno da quella che è la mia esperienza personale anche da quello che ci siamo raccontate in altre occasioni è che eh il cosiddetto stigma eh nei confronti dell'affettività e della sessualità soprattutto nella terza età non è soltanto e soprattutto nella terza età quindi nelle persone che sono coinvolte quindi negli anziani ma è nelle persone che li circondano quindi non so figli nipoti e così via che trovano assurdo delle volte che il nonno il padre ormai anziano possa avere un nuovo amore e possa vivere una sessualità anche quindi da questo punto di vista volevo sapere qual è la sua esperienza assolutamente forse questo è uno dei problemi diciamo che bloccano a volte eh le persone in terza età a vivere un nuovo amore a vivere una nuova età perché perché è proprio il giudizio delle persone che ci circondano che ci impedisce di vivere la nostra vita questo diciamo può succedere anche a persone giovani ma soprattutto in terza età sicuramente questa è più più spiccata come come giudizio e ehm perché perché comunque il parere del figlio o comunque il parere della persona che si occupa di noi è molto importante perché perché vogliamo mostrare agli altri che abbiamo sempre la stessa identità non vogliamo ferire anche forse i sentimenti dei figli magari perché comunque c'è il ricordo di un genitore che se n'è andato dunque c'è anche questo di discorso dunque anche l'elaborazione forse di un lutto che c'è stato e che ehm diciamo la persona ehm ha paura di ferire come ho detto le eh diciamo i familiari eh più stretti dunque io credo che sia questo il motivo principale perché poi l'istinto c'è cioè io quello che 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 raccolgo giornalmente è che comunque eh la voglia di piacere la sessualità eh cioè io per esempio raccolgo spesso eh dalle ospiti dagli ospiti sia maschili che femminili per esempio dei sogni erotici e questo che ci fa pensare che comunque la sessualità c'è c'è e la persona sta bene perché se io arrivo a fare anche dei sogni vuol dire che comunque a livello il mio benessere c'è perché se no sognerei altro assolutamente assolutamente e quindi a questo punto passo la parola dottoressa palumbo su due aspetti eh come superare questa reticenza e questa vergogna che ci può essere di confronto alla sessualità non tanto nella persona di terza età nell'anziano che la vive in prima persona ma quanto appunto nel figlio nel parente eh che la trova inopportuna e inappropriata eh e poi il significato eventualmente di quello che ci raccontava dottoressa Poliseri quindi di questi sogni a sfondo sessuale che vengono fatti a qualunque età anche come diceva giustamente eh la dottoressa 70 80 anni ed oltre insomma assolutamente sì intanto i figli eh intanto trasmissioni come la sua di divulgazione sono sicuramente fondamentali per la realizzazione di una nuova cultura e i figli devono imparare a non essere gelosi dell'affettività dei propri genitori anche se c'è stato un marito una moglie che non c'è più o un divorzio perché oggi tra l'altro le statistiche ci dicono che i divorzi arrivano anche dopo 30 40 anni di matrimonio quindi l'affettività non è di proprietà dei figli e quindi ogni persona ha il diritto di vivere di amare e di sentire come più reputo opportuno e come meglio ehm lo fa esprimere o lo fa stare questo riguarda anche la salute mentale perché privare una persona di provare emozioni vuol dire farlo ammalare quindi come non vorrebbero che un genitore imponesse a loro delle scelte emotive così tanto i figli delle persone anziane devono smettere di pensare quello che devono provare i genitori ehm è importantissimo pensare anche che una relazione amorosa fisica con un'altra persona sia di benessere fisiologico a 360 gradi mentre invece ad una certa età un uso e un abuso della masturbazione perché fa meglio perché magari i figli dicono vabbè fa da sé però poi ufficialmente appare come una persona anziana che vive una vita tranquilla ma anziani non vuol dire eh dover avere una vita non vita un anziano deve avere una vita fatta di altri tempi di altre modalità di altre rappresentazioni emotive ma assolutamente adeguata e che corrisponda alla realizzazione dei prospi benesseri psico e fisici tra l'altro proprio perché la Sara Poliferi è un'esperta di questa materia mi permetto di dirlo perché la Fagiano me lo consente sempre che nel mio podcast abbiamo già trattato il salotto di Mariolina che troverete su Spotify abbiamo già trovato eh Sara che ci parlava degli anziani come ha fatto dalla Fagiano tante altre volte questo tema sulla sessualità ci sembra fondamentale perché manca una divulgazione Sara prima diceva a livello religioso in realtà non solo a livello religioso ma perché gli italiani fanno gli emancipati nelle case degli altri poi quando riguarda casa propria diventano tutti molto come dire antiquati quindi squarciamo questo va questo velo di finzioni queste maschere inutili e e diamo spazio a quella che è la diffusione la divulgazione della salute mentale che passa per gli anziani anche nella libertà di scegliersi una sana e adeguata vita sessuale assolutamente ma quello che ovviamente è una domanda solo spontanea a me ma credo che in questo momento molti che ci stanno guardando si staranno chiedendo la stessa cosa perché a un certo punto della vita diventa qualcosa che non si può fare cioè come se ci fosse uno spartiacque tra il prima e il dopo a 50 anni sì a 60 anni ancora sì a 70 no 65 forse qualcuno anche dirà no perché cosa che crea questo spartiacque lo chiedo dal punto di vista psicologico e poi anche la dottoressa polisele dal punto di vista magari sociale perché può darci un'analisi di quello che lei vive quotidianamente lo stigma lo stigma una mentalità assolutamente non più corrispondente ai fatti ma non solo sulla sessualità perché uno vede il corpo decaduto decadente ovviamente di una persona che cresce quindi magari senza un seno piacente o comunque anziani anche nel fisico con un fisico che vede tutti i segni della senilità ma che vuol dire questo non vuol dire niente bisogna guardarci con gli occhi del del cuore delle emozioni della delle delle passioni come anche giovani non dovrebbero solo guardarsi i rifacimenti dei chirurghi il naso la bocca le tette glutei perché questo non funziona la sessualità per essere una sana sessualità deve essere sviluppata attraverso le emozioni e non attraverso la parte fisica certo una bella ragazza andrà con un bel ragazzo una persona anziana andrà con una persona anziana o comunque una persona grande e non noi diciamo io non sono già sono già una diversamente giovane ma i giovani o la cultura ha questo stigma di dire tanto poi anche il fisico madonna non posso pensare miei genitori che hanno un rapporto sessuale magari hanno superato la settantina scusate ma questa ipocrisia dove sta scritto allora quelli di 13 anni e di 14 anni fanno sesso quello tutto sommato un po presto ma lo possiamo concepire se uno solo vuol fare 80 anni no e quindi smettiamo di uscire da questa ipocrisia perché la salute mentale passa sempre da un'attenta analisi sociale e quindi dobbiamo smettere di essere ipocriti quindi facciamoci proprio una domanda anche no personale realista quanto siamo ipocriti e perché solo rispetto ai nostri genitori perché sono meno genitori sarebbero meno affidabili meno etici perché l'etica poi si ristringe e si gestisce rispetto ad un ad un impulso emotivo allora bisognerebbe non non essere più golosi bisognerebbe non avere più passioni sportive non bisognerebbe più guardare il calcio non bisognerebbe più tifare per nulla perché si è anziani quindi si deve provare emozioni li smettiamo nell'ipocrisia grazie a isabella facciamo queste puntate di divulgazione perché ci vuole un cambio di mentalità e dottoressa polisari quindi dal punto di vista sociale cos'è che crea questo spartiacco a questo avviso e da quella che la sua esperienza lunga anni all'interno di comunità popolate non solo da persone di terza età ma anche dai loro cari perché ovviamente lei si rapporta continuamente anche con figli nipoti insomma e quant'altro se la possiamo vedere sotto due aspetti sicuramente quello che dice la dottoressa palumbo rispetto alla società che non aiuta naturalmente al fatto che comunque ci impone delle delle etichette dunque quello sicuramente è un fatto che impedisce alle persone in terza età di vivere l'amore e di vivere la sessualità in maniera libera per quanto riguarda l'altro aspetto e che sicuramente è la persona stessa che a volte si pone dei paletti perché perché comunque viene dalla anche dalla paura di non essere all'altezza forse ecco perché parlavo del fatto dell'importanza anche di confrontarsi con degli specialisti perché gli specialisti ci possono togliere le paure perché magari ci possono dare dei consigli sulla frequenza su cui farlo sull'intensità con cui farlo sulle posizioni da dover mettere in pratica dunque ci possono aiutare anche nel nella pratica a smontare delle paure che possiamo avere e credo che questi siano i due elementi che vanno ad incidere sulla diciamo sul fatto che la persona in terza età pensa di non essere più all'altezza di poter diciamo avere dei rapporti col con l'altro sesso assolutamente poi rivolgiamoci allo psicologo a consulenza psicologica anche in terza età perché uno pensa che è arrivato a 60 anni dice vabbè ormai lo psico vuoi fare lo psicologo non parliamo di psicoterapia dove sicuramente su una persona over 70 non ci possono essere e non ci devono essere dei traumi o comunque delle scosse emotive ma una consulenza psicologica fino all'ultimo giorno da 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 zero anni no ma già dall'età scolare ai cento anni finché c'è vita una consulenza psicologica quindi parlare con un esperto anche quello è salute mentale anche quello va sdoganato assolutamente assolutamente sì infatti quando poi si parlava di specialisti si parlava di speciali sito coro ovviamente tutti quelli che possono entrare a livello multidisciplinare qui predichiamo sempre la multidisciplinarità l'importanza di osservare qualsiasi condizione da più punti di vista stiamo parlando ovviamente in questo caso non di patologie non di disagi ma anzi di una cosa assolutamente positiva ma in questo caso come diceva la dottoressa Poliseri e poi ha aggiunto anche la dottoressa Palumbo chiedere l'aiuto a persone che abbiano competenza quindi gli specialisti indicati sicuramente può aiutare ad abbattere delle barriere che ancora persistono però prima di salutarci volevo puntare l'attenzione su un altro fattore che secondo me dovrebbe ancora di più invogliare persone della terza età ma anche chi vive attorno a loro a promuovere l'importanza dell'affettività e della sessualità e che questo potrebbe aiutare anche a piacersi di più a prendersi cura di sé perché sappiamo e questo lo dimostra la scienza che quando ci lasciamo andare a prescindibilità dalla condizione se c'è una patologia soprattutto questa è inevitabilmente peggiore sentirsi bene il piacersi e sapere anche di piacere a qualcuno agisce assolutamente sul benessere complessivo e anche sulle patologie che possono essere in corso quindi questo lo volevo sottolineare volevo un supporto ovviamente di entrambe le nostre ospiti così per concludere questa nostra chiacchierata prego dottoressa Poliseri assolutamente perché se io sto bene con me stessa mi curo mi coccolo mi sento che gli altri comunque hanno piacere a stare con me tutto questo naturalmente da benessere psicologico e da diciamo la capacità alla persona di stare in mezzo alla persona le persone in maniera più piacevole più produttiva perché sono anche più produttiva se sto bene assolutamente allora lascio la parola dottoressa palumbo perché lei è sempre brava molto ad incitare a lanciare messaggi quindi prima di salutarci siamo in chiusura abbiamo veramente 60 secondi però le voglio lasciare questo spazio 60 secondi mi riattacco a sara perché l'anziano è produttivo perché non è improduttivo ed è come si direbbe a roma ai giovani un accollo anche no è produttivo continua ad essere produttivo molto produttivo in questo momento sociale per le famiglie perché senza anziani i giovani non saprebbero che lasciare i figli eccetera 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 quindi sponsorizziamo una buona vita sessuale per i nostri cari solidarietà compassione e amore ai nostri genitori lasciamogli vivere la sessualità come reputano opportuno e allora con questo meraviglioso messaggio saluto la dottoressa polisari che ringrazio ovviamente di essere stata con noi questa sera grazie a voi e anche ovviamente la dottoressa palumbo grazie a voi sempre buona serata e in ultimo ringrazio anche i nostri tre spettatori per averci seguito lungo questa serata e vi ricordo che una mera al giorno torna sempre puntuale su questa rete alle 21.30 a tutti i mercoledì vi aspetto e intanto vi auguro una buona notte a tutti i mercoledì vi auguro una buona notte